Conegliano è il turismo motore fondamentale per il rilancio della città del Cima inserita nelle colline del Prosecco Patrimonio Unesco. Per la candidata di centrosinistra Francesca Di Gaspero la prima parola chiave è PNNR. Dobbiamo innanzitutto sapere intercettare i nuovi finanziamenti che stanno arrivando tramite il PNRR. Il comune di Conegliano deve aprire un ufficio che sia in grado di progettare e rendicontare i programmi, i progetti del PNRR ma anche tutta la partita che riguarda i fondi europei. Non solo, Conegliano deve fare rete. Il comune deve attivare delle relazioni con i nostri comuni limitrofi per creare una grande area vasta in cui Conegliano deve rivendicare il ruolo principale. Conegliano è la più grande città della Sinistra Piave, ha le infrastrutture, faccio riferimento alla stazione e all'uscita dell'autostrada e ha la capacità ricettiva e commerciale per svolgere un ruolo principale. Tutto questo senza dimenticare, spiega Di Gaspero, che siamo stati premiati non per il Prosecco ma per le nostre colline, per i nostri capitelli, le nostre case coloniche. Assieme al prodotto, che chiaramente è il Prosecco, dobbiamo valorizzare anche tutta la partita naturalistica che abbiamo come patrimonio unico al mondo.